I genitori si erano allontanati un attimo lasciando i quattro figli soli in casa. Tanto è bastato perché i piccoli bambini di età compresa tra l'anno e gli otto anni combinassero qualcosa che ne scatta un principio d'incendio. L'episodio è avvenuto in un'abitazione di St. Ambrogio di Valpolicella nel Veronese occupata da una famiglia di ganesi. Le fiamme sono partite dal piano cottura della cucina e sono state spente in pochi minuti dai vigili del fuoco che sono intervenuti tempestivamente. I quattro bambini sono stati però portati in ospedale per verificare se avessero inalato del fumo durante l'incendio ma le loro condizioni fortunatamente sono buone. Papà e mamma impauriti e preoccupati sono accorsi subito in pronto soccorso dai figli. Sul luogo, oltre ai vigili al fuoco e al personale del 118, sono arrivati anche i carabinieri di Caprino Veronese. Dovranno accertare i militari se vi sia stato abbandono di minore da parte dei genitori nel qual caso scatterebbe la denuncia all'autorità giudiziaria. Gli adulti non erano molto lontani dall'appartamento. Certo, hanno lasciato privi di custodia dei bambini davvero piccoli.